Konnichiwa a tutti, benvenuti in un nuovo episodio di Into the 4K. Oggi abbiamo in prova la nuova aspirapolvere che alla fine è della Xiaomi, della Jimmy, marca Jimmy. Ma andiamo subito in azione a vedere come aspira. Aspira molto bene, come vedete qui c'è la ricarica. Tre velocità a disposizione, adesso andiamo a vedere come aspira. I peli dei gatti, molto molto carina, molto bene. Aspira bella perché vedete qua c'è la ventolina che gira, la rotella, quindi funziona molto bene. Fatemi spegnere, non sto facendo la recensione dell'aspirapolvere, ci manca ancora questo. Volevo solo dirvi una buona domenica a tutti, ciao belli.